Questo è un libro che dovrebbe essere studiato alla scuola superiore di magistratura, dovrebbe essere letto con attenzione da ognuno di noi, dovrebbe essere oggetto di riflessione soprattutto per quanto riguarda la devastazione dei nostri diritti civili fondamentali. Noi abbiamo un articolo della Costituzione, non se ne è parlato stasera, se ne era accennato, ma poi il tempo è tiranno, che dice che la segretezza delle nostre conversazioni è inviolabile, anche perché la segretezza è il riflesso della nostra libertà. Pascal diceva che se noi sapessimo tutto, tutti quello che dicono di noi non avremmo un amico, per fortuna le nostre conversazioni rimangono segrete. Questo diritto primario è stato vulnerato dalla magistratura ed è stato strumentalizzato dalla politica ed è stato di recente, si è cercato di modificarlo, si è cercato di annullare questa invasività che però si è ritorta contro, per una nemesis storica, proprio contro la stessa magistratura, cioè contro il dottor Palamara. Il Presidente Renzi vi ha spiegato cos'è il Troia. Guardate, non auguro a nessuno di voi di essere oggetto di un'indagine fatta così male, fatta in modo così anomalo, fatta in modo così devastante come quella che viene narrato in questo libro, perché tutti i diritti costituzionali di riservatezza sono stati violati nonostante ripetute e reiterate censure, non nostre, ma della Corte di Cassazione. E se una giustizia penale continua a insistere in modo recidivo e reiterato, violando la legge e violando i diritti dei cittadini, o noi diamo una sterzata epocale a questa forma di giustizia, oppure senza saperlo o purtroppo sapendolo, ci avviamo verso una forma strisciante di dittatura dell'informazione. Grazie. Grazie.